Gigi a tutti ragazzi, sono Alien e ancora una volta bentornati su Destiny. Oggi è venerdì, dunque è tempo del format ZUR presente il Bungie Weekly Update, una serie di episodi dove settimanalmente io vi commento insieme le ultime novità presenti sul Bungie Weekly Update che Bungie pubblica sul suo sito. Il link completo è in descrizione se voleste controllare da soli la news stessa, naturalmente in inglese. Commentiamo insieme le novità principalmente trattate nella stessa rubrica di Bungie, questo per quanto riguarda la prima parte, mentre nella seconda parte vi illustro le novità di ZUR, ovvero ciò che vende ZUR per la settimana corrente, ZUR è il venditore di esotici. Nel frattempo vi faccio vedere dove trovare ZUR questa settimana. Se non vi interessa il Bungie Weekly Update, sempre nella descrizione trovate il minuto dal quale poter controllare solo ciò che vende ZUR. Se invece siete curiosi di capire cosa è stato trattato nel Weekly Update, chiaramente potete rimanere dove siete. Per quanto riguarda i Weekly Update di questa settimana non c'è molto su cui discutere, a parte l'implementazione della 1.1.1, che ripeto è prevista per fine febbraio. Niente di che, la novità di questa settimana è che Bungie sta lavorando a una delle modifiche che ci saranno nella 1.1.1, ovvero poter controllare le reputazioni di fazione, quindi orbita morta, avanguardia, nuova monarchia, culto della guerra futura, direttamente dal proprio inventario, dove dal proprio inventario, andando a destra delle valute, sarà possibile controllare ciascuna reputazione che appunto si ha con quel personaggio. Ed è una cosa molto comoda perché prima si era costretti ad andare in torre dal vendor di fazione per capire a che punto fosse la fazione. Come vedete dalla piccola anteprima, non sarà più così. E niente, questo è quanto per quanto riguarda il Weekly Update. Per quanto riguarda Zuri invece, cosa vende? Avete già visto qualcosa di interessante, lo so, ma ci arriveremo tra un attimo. Cominciamo dal casco, ovvero il casco della luce intima, un elmo per il titanio, in particolare titano assaltatore, perché aggiunge morte dall'alto e testardaggine al pugno della distruzione, quindi è un elmo che si rivolge a quei titani con sottoclasse assaltatore. Morte dall'alto in pratica vi permette di atterrare più velocemente mentre eseguite pugno della distruzione, fate un'animazione molto interessante tipo Superman, molto molto figa, testardaggine aumenta la portata del balzo di pugno della distruzione dopo una breve corsa. Personalmente non consiglio di comprare questo casco a meno che non abbiate un surplus di monete non indifferenti, è un casco per cazzeggio, ce ne sono tanti altri migliori di questo, quindi appunto non lo comprate se siete a risparmio lasciate perdere. Una cosa invece molto molto importante è questa, cioè un cimiero del lupo alfa, 13 strane monete come quello di prima, come il casco, ma qui lo dovete comprare, ve lo dico già da adesso, perché? La particolarità di questa armatura torace per cacciatore è che ogni volta voi fate una super abilità, quindi pistola d'oro o che ne so, lama danzante, voi generate sfere di luce, molto importante per i vostri compagni, perché oltre a far salire loro la super, i vostri compagni potrebbero indossare pezzi che ogni volta che si raccolgono sfere di luce, attivano, riattivano la super energia, è una cosa molto importante, specie quando si sta facendo crota a livello 33. Un'altra cosa importante è che rianima i compagni di squadra deceduti più velocemente, viceversa, quindi chi ha questo pezzo torace sarà rianimato più velocemente, appunto, e rianimerà più velocemente. Quindi è un, ripeto, armatura torace che dovete comprare se avete la possibilità. Questo, luce oltre la Nemesi, è un casco invece per stregone, per stregoni anzi, come quello di prima, come il cimiero di lupo alfa, la particolarità è che questo, oltre a far quello che ho detto prima, c'è anche infusione, ovvero ripristina appunto la salute ogni volta che si raccoglie una sfere di luce. Quindi, se dovevate comprare quello prima, assolutamente dovete comprare anche questo. Molto, molto importante, perché come ho detto prima, se state facendo crota e qualcuno di voi ha, qualcuno dei vostri compagni genera sfere di luce, voi raccogliendo la sfere di luce riattivate la rianimazione della vita, che è molto utile in quanto crota, a meno che non prendete il calice. Insomma, non vi potete rianimare immediatamente la salute, specialmente prima di affrontare crota, prima di uscire dalle torri, per intenderci. Quindi, credo che sia fondamentale acquistare questo elmo. E veniamo al rompighiaccio. Rompighiaccio, insieme a Galaorn, sono le due armi migliori del gioco. Sono le armi che voi dovete possedere a occhi chiusi. Non c'è, secondo me, quest'arma è buona. Quest'arma è buona, punto. Non c'è da discutere, perché è un fucile da precisione con danno solare, come vedete, 300 dita d'attacco, quindi portabile a 331. La particolarità è che non può essere ricaricato, quindi se voi finite i proiettili dovete aspettare che si ricaricano. Esatto, si devono ricaricare. Quindi non raccoglierete mai munizioni verdi speciali per quest'arma, perché non ne avete bisogno. Dovete aspettare che si ricaricano i singoli colpi. Ne avete sei in totale. Grossa cosa, perché, come ben sapete, i colpi non è che si trovano per terra ogni volta che ammazzate qualcuno. Allora, abbiamo seconda chance, ovvero che se il colpo, manco in bersaglio, c'è la possibilità che ridone nel caricatore e rompi ghiaccio, se voi uccidete un nemico con quest'arma, questo nemico esplode e fa esplodere quelli nelle immediate vicinanze. Pensate agli schiavi, ne colpite uno e fate fuori quasi tutti quelli che stanno intorno, appunto, ammassati. Come ho detto, non può essere ricaricata, ma rigenera le munizioni nel tempo. Quindi, vi do un consiglio, fate gli assalti eroici, fate i rock dell'avanguardia, fate le playlist, aprite in grammi rari, quindi blu. Fate quello che dovete fare, prendete le strane monete che dovete prendere per acquistare quest'arma e compratela. Cioè, non esiste che voi vi lasciate sfuggire quest'arma, perché insieme a Galaward sono le due armi che dovete possedere per forza. Qui abbiamo poi il frammento esotico, costa di sette strane monete, ricordo utile per portare l'ultimo nodo a delle armi o delle armature esotiche, quindi molto importante per maxare armi o armature esotiche. Qui invece ci sono gli equipaggiamenti esotici che potete ricomprare dando via a quelli vecchi, ovvero quelli droppati prima dell'arrivo dell'espansione all'oscurità del profondo. Quindi se avevate un Galaward di attacco 300, dando indietro quello vecchio più Tot Lumen, più un frammento esotico, riceverete quello nuovo, upgradabile a 331 di attacco, con i perk resettati. Quindi dovrete rimettere i perk e ricostruire di nuovo l'arma. Qui abbiamo le telemetrie, sono oggetti consumabili che potete acquistare. Per esempio, se volete portarvi su più in fretta il vostro rompighiaccio, acquistate la telemetria per il fucile da precisione. E tutte le esperienze che guadagnerete su quel fucile di precisione sarà maggiorata, quindi farete salire l'arma più in fretta. Qui abbiamo bobine di smeraldo e propulsore al plasmo, sono oggetti che potenziano il vostro astore azzurro, quindi raro, e lo fanno diventare viola, quindi leggendario. Bene, anche per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, Elian come al solito vi saluta, GG a tutti, peace! That came from the moon.